Bella a tutti ragazzi, ben ritorno del vostro gioco, siamo tornati signori sul secondo appuntamento di The Bunker Quindi ragazzi, ve l'ate chiesto, non venete in tantissimi, quindi è per questo che ve lo sto riportando Veramente non mi aspettavo che vi potesse interessare veramente così tanto questo gioco Quindi, raga, a me veramente fa un piacere immenso riportarvelo E comunque di continuare questa avventura con The Bunker Quindi mi raccomando, un bel like ragazzi, arriviamo, cerchiamo di arrivare a 15.000 like per il prossimo appuntamento Non appena il video raggiunge i 15.000 like, vi porterò la terza appuntata, il terzo appuntamento Quindi andiamo a continuare dove siamo rimasti, quindi mi raccomando ragazzi, appena raggiungi i 15.000 like Proseguiamo con il terzo appuntamento Oddio, fermi un attimo perché non mi ricordavo che stavo qui ragazzi Perché? Beh, che no, aspetta, non me lo ricordo Allora, non mi ricordavo che stavo qua ragazzi, ve lo dico Mi sto cagando sotto, no, fermi un attimo già Siamo male, che succede qua? Oh mio dio, regalo, eh, non me lo ricordavo ragazzi Ok, ok, camminiamo qua, andiamo a guardare Andiamo qua, top secret Sì, va bene, c'è un cazzo Sì, va bene, sì Come no, ok Allora, poi mi dicevo di andare lì Ah, possiamo cambiare qua Vediamo un attimino Ancora funziona tutto Lì c'è una paura, regà, che mesce qualcosa Regional reports General, fuel, vabbè, medical report Riperto medicinale, novembre 1996 Ok, personal log Perché se vuoi, fine Ci sto a capire in cavolo, tanto, va bene Sono fatti una finta di legge Miss Abbiamo sblocato comunque L'obiettivo è che se entri questi qua Sono quelli di anche Cioccolata Grazie Vabbè, non ho capito bene molto Torniamo indietro, dobbiamo andare Che dobbiamo camminare Perché altro quindi Regà, guarda che veramente Sto gioco mette un'ansia incredibile Adesso, voi forse non ve ne rendete conto Mi avevo una paura Che tipo mesce qualcosa all'improvviso Incredibile Perché mi sto sentito Che mi metto una paura adesso Perché mi fa sentire male Ok, qua c'è da guardare molte cose Allora C'è da guardare qua C'è da guardare qua dentro Sam Abbiamo trovato la seconda di Sam Ok, quindi la seconda L'abbiamo trovata Andiamo qua dentro Vediamo un po' Come mi signor room Ah no, stiamo entrando in quell'altra Ma questo non c'ha paura Di entrare così da solo Ma tu sei matto Oh, un'altra statueta Dottore Perfetto Quindi anche questa abbiamo presa Sì Come no Sì Capisco tutto Non ti preoccupare Ab, benvenuti E we be welcome To see me When Sam and Motherfair Yes, come no Eeeee Ok, qua c'è sta Registrazione vocale Qualche registratore vocale Sto bidet 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 Why? Am I on the right medicine? What could be done? Why would he say? George has been distracted lately Maybe he's just trying not to upset They should be upset They built this place in six weeks Six weeks Vabbè stai tagging Sto bidet No Waaah Sto bidet Sto bidet Sto bidet Sto bidet Ah no No He's just trying not to Sto bidet Man He doesn't want everyone to panic Silly old Vera Having another one of her turn Cof Ecco Cof 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 Bene, 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 possiamo stoppare, perfetto, oddio non mi fa così che a me mi fa sentire male, possiamo guardare anche la cartina geografica, per esempio, per esempio, il hit on redding era un megaton, questo significa che abbiamo questa radice, solo a metà di Basingstoke, ora, magari questo si sembra piccolo, ma questo è circa 100.000 fatalities, magari 80.000 injuries, dal blasto e dal fireball, Questo è solo per cominciare, la direzione di vento prevale, qui è il nord-est, il scattamento di fallout sarà enorme, è probabilmente di rinforzare tutta la passata Cambridge, tutta Norwich, anche, fuori a sea, il numero totale di causati? Non immaginabile, e questo è un bomba Bene, se lo dici tu, noi ci crediamo, quindi possiamo andare indietro, ragazzi, ho una paura, madonna mia, non me fate così, a me fate sentire male, veramente, eh, andiamo di qua Oddio, regà, mi hai preso un attimo un colpo al cuore With the greatest respect, sir, we've been up all night, it's been 10 minutes since I had to cover Vera's face But is it radiation? I don't know yet, the nearest proper lab is under 10 tonnes of radioactive rubble, and I have to make do with a microscope It's all right, George We'll run some tests, Mr Bishop Is anyone else showing signs? Yes, six others Quarantine them, right away Find out where they were working It cuts all going around What they had contact with, and what they've been eating We need a source Margaret It's all right, come here, love What's the matter? I can't sleep It's all right You know, if you stay in your room, you'll be safe I can't sleep 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 Okay I can't sleep 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 Okay, well, it's all power off So, we need to go out All right, let's go back This Let's do a little bit Let's do a little bit We need to do a little more You just want to sleep C Curry Ah, servizio C Curry I can't sleep Just feel I can't sleep I can't sleep Look how ma facciamo a zaccari a mazzaccai tutti insomma ma era proprio quelli che tutti abbiamo presi i fusibili bene bravo simone ok eccolo qua ma che io volevo essere sicuro che anche con gli altri ok quindi abbiamo messo tutto possiamo fare back e si riaccende al totos ma c'è c'è in ombra ria ma perché tu sai che c'è questo gioco è strano c'è veramente di mettere un'ansia addosso che è incredibile è incredibile questa è quella prima quindi non ci interessa possiamo tornare in alto questi già l'abbiamo fatti non ci può interessare bec diciamo che possiamo tornare indietro ok allora vediamo un attimino questo questo prima non ci ho faccia cliccare o forse non l'ho visto io prima ma non credo che questo prima ci ho faccia cliccare c'è questo è un semplice messaggio quindi ah no non ci ho faccio cliccare l'ho questa eccetera ora ma non lo so se è con te e il suo figlio, il suo figlio è il suo figlio, John se sei qui, o se nessuno ha una notizia su lui, potremmo lasciarmi sapere andiamo bene raga andiamo bene possiamo spingere tanto il messaggio è terminato se lui si sta caricando sotto io sono drago a confronto possiamo tornare indietro, quindi dobbiamo tornare tutto indietro? vediamo un attimino eh, oh livello 2 cosa? scendiamo giù? oh 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 non voglio andare lì dai dai io tranquillamente una parolona raga, tranquillamente eh, perchè io mi sto a cacca sotto cioè questo non so come fa ah raga ma mettiamo sempre le mani su, no? che non ci vorrei mai mettere una vita ma come so come cazzo fa? sta qua da solo e riesce ad andare avanti da solo e poi c'ha che è successo? non mi fate così che mi fate senti male a me però non c'è più la mamma ho il letto suo e non c'è più ma tu sei matto bello del zio tu sei matto realmente hai fatto di proprio da no da la stanza fosse sotto? no il tuo diario ma non... se... today... tu sorella ma che ce ne fottano? un missionario ma non vado a trovare il commissionario, non vado a trovare il commissionario non vado a trovare i coglioni dai 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 torna indietro torna indietro che dobbiamo fare qualcosa in tempo oh ma stai cazzo di sotto mettono una paura che sono inquietanti porca miseria senti che roba? questo ancora portino a parlare pure no niente qua sotto c'è niente ma qua no, becca vai ossigeno ok, temperatura ok, 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 ok oh aria condizionata fail ho bisogno di trovare un lbc suite lbc suite c'ho un'ansia c'ho un'ansia, c'ho un'ansia, devo fermatevi proprio qui lbc suite, quindi vediamo un attimino raga eh ma forse noi ci stiamo sbagliando strada però no, dovrebbe stare qua se non sbaglio ok, dobbiamo andare sempre da sta parte ok, tocca andare giù e ti ho ragione, perfetto dai, fate coraggio e vai giù, su ma come fa a vedere tutto rosso questo? non morre raga ora si viene sulle scale questo se svegliete svengo pure io, te lo dico eh c'ha una paura raga ma io ci sto là sotto ok aria condizionata voda, ok mamma mia che ansia nooo ma se sce... BU gliela posso fare gà? livello 3 non gliela posso fare gà? no 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 non gliela posso fare, fermi tutti accendiamo la luce è accesa the war room the war room ok, ragazzi facciamo così l'appuntamento di oggi può terminare qua signori andiamo avanti mi raccomando continuiamo da qua la prossima volta vi chiedo gentilmente di arrivare a 15.000 like per il terzo appuntamento mamma mia signori si sta facendo sempre più interessante tutti i social li trovate qua sotto in descrizione Instagram, pagina Facebook e shop online vi aspetto ragazzi mi raccomando 15.000 like e poi facciamo il terzo appuntamento bella raga pensate, scrivetemi qua sotto voi che ne pensate di sto cacchio di episodio perchè io me sto sentin male ciao signori